Michele Masini, team manager del team Gresini, non ha dubbi, Mark Marquez vincerà almeno una gara prima della fine della stagione. Sinceramente è un qualcosa che penso anch'io, continuo a pensare che Mark Marquez abbia il potenziale per conquistare una gara al di là della competitività della GP23 a differenza della GP24. Andiamo un attimo ad analizzare la stagione di Mark Marquez fino adesso, ricordiamo 11 gare fatte, 11 sprint disputate, ne mancano ancora 9 gare e 9 sprint. Allora intanto cominciamo da un sondaggio, ho cercato di coinvolgere voi appassionati, la domanda era come giudicate la prima metà di stagione di Mark Marquez, ecco secondo il 5% è eccellente sopra le aspettative, secondo il 24% è ottima in linea con le aspettative, secondo il 53% è buona ma mi aspettavo di più, hanno risposto gli appassionati, poco più che sufficiente per l'11% negativa al di sotto delle aspettative per il 7%. Allora diciamo che io personalmente faccio parte del 53%, considero la stagione di Mark Marquez buona ma mi aspettavo qualcosa in più, mi aspettavo una vittoria e secondo me Mark Marquez l'occasione per vincere l'ha avuta, ne ha avuta più di una. Allora andiamo a vedere, ho provato a fare una tabella riassuntiva delle gare dove Mark Marquez forse avrebbe potuto vincere, allora partiamo dal GP del Portogallo, in qualifica Mark Marquez era ottavo, ha finito la sprint secondo a un secondo 0.39 da Maverick Vignales, in gara è caduto mentre lottava con Bagnaia al 23esimo giro per il quarto posto, ecco in quell'occasione Mark Marquez poteva salire sul podio, non poteva vincere ma poteva salire sul podio. Gran premio degli Stati Uniti, terzo in qualifica quindi molto buono, prima fila con la Ducati, secondo nella sprint a due secondi 294 sempre dietro Vignales, in gara Mark Marquez va in testa ma cade all'undicesimo giro, ecco qui però la caduta non è colpa di Mark Marquez ma è stata causata da un problema ai freni, è chiaro però che quel gran premio poteva essere vinto, Marquez non ci è riuscito non per colpa sua ma quella è stata un'occasione sprecata. Gran premio di Spagna in qualifica Mark Marquez è primo pole position con la Ducati GP23, il potenziale c'è per vincere la gara, però nella sprint cade al nono giro mentre è primo, in gara fa secondo a 0,372 da Bagnaia, ve la ricordate? Quella sfida meravigliosa, sorpassi contro sorpassi, sportellate, insomma è stata una gara pazzesca, ecco però Heiretz, Mark Marquez aveva il potenziale per vincere sia la sprint sia la gara. GP di Francia, altra occasione persa, in qualifica è tredicesimo e Mark Marquez perde in qualifica la possibilità di giocarsi la vittoria perché lo dimostra quello che succede nella sprint, secondo a due secondi 280 dal vincitore, secondo in gara a 0,446 da Orge Martina. Se fosse partito più avanti Mark Marquez avrebbe potuto vincere la gara, aveva il potenziale per vincere sia la sprint sia la gara, ma l'errore in Q1, di fatto Marquez non riesce a superare la Q1 e non riesce ad entrare in Q2, ecco quindi che quello gli compromette le possibilità di vittoria. Gran premio della Catalunia, Gran premio della Catalunia, Mark Marquez non si sente per niente bene sulla moto, è solo quattordicesimo in qualifica, però nella sprint è secondo e in gara è terzo, secondo nella sprint a 0,892, ecco in questo caso anche qui aveva il potenziale per vincere almeno nella sprint perché in gara come si vede il distacco è troppo elevato, era decisamente più lento di chi gli è arrivato davanti, ma nella sprint se fosse partito più avanti avrebbe potuto vincere, quindi un'altra gara condizionata dalle qualifiche così come è successo nella sua Saxe Ring. In Germania in qualifica Mark Marquez perde la possibilità di giocarsi la vittoria, solo tredicesimo, anche in questo caso non passa la Q1, nella sprint è sesto a 6 secondi 281, ma è in gara è secondo a 3 secondi e 8, anche in questo caso le qualifiche sono state determinanti. E l'ultima occasione persa è nell'ultimo Gran premio, Gran premio d'Austria, Mark Marquez è molto efficace in prova e terzo, quindi prima fila, ma nella sprint cade al decimo giro, mentre secondo, il secondo posto è praticamente certo, il primo è un secondo e 3, Marquez crede nella vittoria ma cade, questo è uno sbaglio di Mark. Mentre in gara sappiamo succede di tutto, prima problemi con la gomma anteriore, viene cambiata questa valvola rotta, viene cambiata, c'è un po' di nervosismo, Marquez aggancia l'abbassatore anteriore, poi fa un'ulteriore frenata per scaldare la gomma, montata all'ultimo momento e si sgancia l'abbassatore, non aggancia nemmeno l'abbassatore posteriore, quindi in partenza è assolutamente poco efficace, parte molto indietro, c'è il contatto con Morbidelli, scatta dalla tredicesima posizione e rimonta fino alla quarta, anche in questo caso è un'occasione sprecata. Ecco, quindi le occasioni Mark Marquez le ha avute, credo, spero di averle rassunte bene in questa tabella, avrebbe potuto vincere dei gran premi fino adesso? Sì, non ci è riuscito, può ancora vincere i gran premi, secondo Masini non ci sono dubbi, secondo Michele Masini, team manager del team Gresini non ci sono dubbi, Mark Marquez vincerà almeno un gran premio. E questa è la notizia in prima fila di oggi, io sono Lozan, vorrei sapere la vostra opinione. Grazie a tutti!